e le aveva scritte lei un video, un video e così termina lo spettacolo lo spettacolo è quello che è stato così come è stato percepito sia in Inghilterra che negli Stati Uniti naturalmente farlo in italiano così bisognerebbe fare un doppiaggio far capire le parole che lei pronuncia in inglese è bello sentire lei che le dice sono bellissime parole però vedere lei che è così giovane che dice queste cose è molto emozionante e quindi si perderebbe un po' se fosse fatto doppiato oppure con i sottotitoli anche se però forse addirittura un gruppetto della Poerio o del Mercalli potrà fare un'operazione di questo tipo cioè di